I've been waiting so long to be one. Parlate di morale quanto volete a un popolo mal governato. La morale è un detto, la politica un fatto. Anche la vita domestica, qualunque cosa umana, prende forma dalla natura generale dello stato pubblico di un popolo. Gli italiani non hanno costumi, essi hanno delle usanze. Così tutti i popoli civili, che non sono nazioni. Voi ci rendiamo conto che cosa scrive Leopardi in questo passo dello Zibaldone? Voi vi ricordate che uno degli slogan, voi che avete vent'anni, del 68, era il privato è politico, stava scritto sui muri, io me lo ricordo. Leopardi dice la stessa cosa, lo dice un secolo e mezzo prima. Anche la vita domestica, anche i nostri sentimenti personali, prendono forma dallo stato generale delle cose. Ma è un'intuizione straordinaria che lui fa, di questo mettere in comunicazione, quello che è l'interiorità di ognuno di noi, i pensieri che coltiviamo, i sentimenti e la condizione politica, generale quindi politica, nella quale ci troviamo.